Giornata di amici oggi, sabato 24 giugno, Tommaso e Rosana buongiorno Ciao, buongiorno a tutti Sabato Montaguti si sta benissimo Si respira E vedi che bella rietta fresca Venite a Montaguto, respirate bene Facciamo pure un appello per il Natale, Natale tutti a Montaguto, vai, ditelo Natale tutti a Montaguto Chiamiamo a racconto Ma sono un po' di neve E basta No, allora, tutti a Montaguto, poi tre metri di neve, tutti bloccati Per due misi a Montaguto E' proprio il sogno Ciao Ti aspettiamo